Buongiorno e auguri, buongiorno e auguri, buongiorno e auguri, vai un po' più in là, in là, buongiorno e auguri, guarda un po' chi non lì, buongiornino e auguri, vai un pelino in là, guarda un po', guarda un po' che cosa c'è, guarda un po', a parte Ale che si sta dando da fare qui, cos'è? Colazione speciale e regali, che regali e che colazione è? Allora, cosa aprile prima? È freddo, già stai dormendo, ecco ci sono ancora ancora le buste, vedi un po', vedi un po', voglio aprire questo, sì? Allora, dato che tu la mattina non mangi tanto, perché non hai mai fame la mattina, ti ho preso una cosa che pensavo, oddio che figo, ti ho preso una cosa che pensavo potessi piacere qui, quello è un tè, è un tè freddo McRive, 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 come c'è stupido? Eh? McRive, ma perché dato che tu l'ami il peccolo, ho pensato che... C'ha un bel url? C'ha un bel url? C'ha un bel url? Mi ho presa una un'altra data, oh il marshmallow te l'ho preso con lo zucchero amore, guarda un certo, quasi? Sì, è bellissima questa lacrini. Però prima voglio aprire i regali. Vai, prima voglio aprire i regali. Obbligo, obbligo. Perché adesso posso aprire? Allora, quelle dovrebbero essere tutte cose piccoline, credo. Quindi... Aspetta. Guarda che figo quella gente. Bello, ottima scelta. Sì, ma se tu hai fatto la gente, poi quando si prende le... No, no, ammule, alcuni li appendiamo pure. Vai. Oddio, quanto so carine. Perché l'hai risolata con te? Oddio, perché? La foto è tutta bella. È tutto troppo carino. Sì, sì. È troppo carino. Oddio. Vabbè, non vado ad aprire prima che sia carino. Sì, sì. No, vabbè. Non so che dire l'acchio. Guarda, si può togliere. Oh, che fissa. Ma questa è la famiglia. Boh, prova ad aprire. Apri e scopri. Sì. Sì, intanto, questo è quello che sono quelle, perché è il mio compleanno, è molto troppo emozionato. Guarda, patone. Allora. Vabbè, come c'è un altro di quelle ragioni perché... una volta questo personaggio che sta sul palloncino, una volta l'ho visto quando ho fatto parkour sul Roblox, quel personaggio. Ah, vero. E anche il coso nero, il coso... Il ninja. Il ninja. Il ninja, il ninja. Il ninja lo ha visto anche su Roblox. E lui sta a far morire, lui te lo ha visto anche la faccia. Se la Roblox. Sì. Ah, mo, c'è sta la pompa per... Cioè... Ah, che bello! Non è. Che? Che cosa? Sapore. Ah. Ti sta ammogliando? No. Vai, vado. No, ti ha spiegato greco, ti ha spiegato lo Roblox. Attacca, attacca, stai, stai, stai. Che figli. Sei felice? E tu vuoi chiedere questo romerice? Non c'è questo romerice, me lo chiedi. No? Lo sai già. Vole, vole, vole. Pesca le loro a te, pesca le loro a te. Questo. Voglio che apri questo. È l'ultimo che è arrivato. Non si capisce. Ma quanti sono? È l'intera famiglia. Allora? Il nonno. Il nonno. Guarda che bello che è. La ronna. La ronna. Aspetta, qua c'è scritto il... C'è scritto... Si chiamano Boris, Doris, Sandy, Tab, Talli, Chuck. Sì, questa è la nonna. Oh, i fratellini. Oddio, che carini. Poi... Ovviamente li tratterò super bene. Non capisco se è la mamma o la zia. Sì, sarà la mamma, devo. Quello è il papà. Un fratellino. Questo è il fratellone. Questo è il fratellone grande. E questo è il papà. Sono buoni. Mamma mia, quanti. Grande papà. Fatta. Eh? Vai. Che bello. Cosa c'è là dentro? Un altro personaggio. Oddio, che carino. Che carino che è. No. Ma mica me lo ricordavo che avevamo preso i koala. Ma quando li abbiamo presi i koala? Oh mio Dio. Ma scusa, chi sono? Una mappa. Ah, la mamma, il papà e la figlia. Hai capito? Mamma, papà e figlio sono. Una mappa. Una mappa. Guarda, c'è la mappa. Che c'è della storia. Ma che figo. Scusa, quindi qua dentro che cosa c'è? Che cosa sarà? Questo non ci devo pensare. Cosa sarà quello? Sono quelli a cuore. Bellissimi. Non l'ho scritto. Beh, ma è... Aspetta. No, 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 no. Non ho capito che sei lì. Quanto so carini. Però tra i pa... Tra i... Come chiamiamo? Questi. E questi qua, forse preferisco i coniglietti. Sì. Che cos'è? Allora. Che figo, ma è la cucina. Certo, è la cucina. Scusa, fammi vedere un attimo. Oddio, è questo set. È questo set qui dietro. Che figo. Allora, c'è il tavolo. Il tavolino. No, vabbè, ma che figo. Ma ci stanno gli accessori qua. Si apre? No, che bello. Così dentro ci puoi mettere gli accessori. Allora, abbiamo detto il tavolino. Sei servita e riferita. Oggi è la tua festa. Il tavolino. Il rubinetto. Sì. Questa però è la cosa più bella. Cos'è? Che figo. Bello questo. Bello, bello, bello. Allora, spiegiamo perché ne posso aprire. Perché se con l'aperto vado ancora a capire. Si unisce. Ah, si uniscono? Ah, sì, è vero. Sembrano della stessa casa. Allora, forse magari non lo hanno capito. Sedia. Ah, una sediolina che è carina. Ah, un'altra sediolina da metterle vicino al tavolo. Ma sono stai, sono un testito. No, no, sono così. Ecco. Fì, che sarà. È figa, sì. Ma che bella. Aspetta che te le apro. Sono tutte pentolini. Il frigo. Il frigorifero. No, ti prego. Sì, sì. Io morta col frigorifero. No, è bellissimo. Amore, non sai. Oddio, quanto è grande. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che bello. Ma poi dobbiamo pulirlo? No, no, è un otto. Ti lascio qua sopra delle uova. Uova? Sì. Uova? Un mestolino. Un mestolino? Qua ce l'abbiamo delle tassine. Una tassina. Ah, figo. Un chitto. Aspetta, faccio prima fare così. Aspetta. Che figo, guarda il pesce là. Questo è il pesce da mangiare. Aspetta, questo che cos'è? Ah, là. Guarda. Una totta. No, guarda mamma, questa c'è la cosa per chiudere la pentola. Guarda qua. Che cos'è? Il riso? No, che figo. È quello che stai... No. Ma che bello. Guarda le miele pure come sono fatte bene. E questo è fatto molto bene. Scusa, mettiamole in frigo, se no vanno male. Mamma, funziona. Scusa, è questo che cos'è? Funziona. Capito che cos'è questo? No. I ghiacci. I ghiacci. Questo funziona però. No, ma che stai dicendo? Funziona. Ma non è vero. Funziona. Ma che stai... No, scusa, dammi una fetta di pane. Già va dentro. No, ma che stai a te? No. Guarda, funziona. Ma di che stiamo a parlare? Guarda, guarda. Tu signor. Amore. Patata va bellissimo. Bravo. Ma quanto... Quanta... Quanta aria hai più che alta di questo? Ne è tantissima, madonna mia. Amore, sei felice, patata? E me lo chiedi ancora? Voglio essere sicura che tu sei felice. Cos'è questo? No, ma che bello. Ho provato? Sì, ma questo mi fa morire. Si apre. Si apre. Ah, così si toglie. Così lo puoi versare. Sì, si apre. No, vabbè. Dopo il momento con l'acere speciale ci siamo iniziati a fare i capelli. E Lara... Mi stanno un po' sciogliendo. Ci stanno un po' sciogliendo ma dopo li ripassiamo. Però sei bellissima. Facciamo un... La mia straniscia. Sì. Comunque, adesso ci stiamo appunto preparando. E allora, il catering arriva verso le 12 credo, più o meno, giù di lì. E noi dobbiamo iniziare a fare le ultime decorazioni perché se no non arriva in tempo. Adesso devo togliere tutto dal tavolo e mettere la tovaglia. E poi devo sistemare il divano, lo devo spostare. Dobbiamo aprire qui i palloncini che sono veramente, veramente tanti. Li dobbiamo distribuire. In più devo appendere ancora Happy Birthday e questi qui. Quindi raga, io vi saluto. Vedrete tutto nel video di domani. Compresa la festa. Quindi vedrete tutto sistemato. La festa. E Lara che giocherà con gli amichetti. Tutto quanto. Insomma, cosa abbiamo preso nel catering. Perché ho visto che molti sono curiosi perché evidentemente magari è figo vedere effettivamente cosa si mangia alle altre feste per prendere spunto. Insomma, volete vedere la torta? Che siete curiosissimi. E sì, ormai avete capito il tema. Ma vi assicuro che è bella, bella, bella. E niente. Quindi, amori miei. Noi ci vediamo come sempre domani. Ore 18. Sempre qui. Sempre su questo canale. E ora volo perché ho troppe cose da fare. Love you.